La menopausa è la cessazione del ciclo menestruale, un momento molto preciso nella vita della donna e l'ultimo ciclo che noi abbiamo. Quando parliamo di menopausa in genere intendiamo il climaterio che è quel periodo che sta intorno all'ultimo ciclo, che sta prima e che sta dopo e che purtroppo si associa a un cambiamento fisiologico della donna profondo con delle sintomatologie che possono essere molto gravi per alcune donne non esistenti per altre, comunque molto diverse da donna a donna, da personalità a personalità. La donna può affrontare con molta serenità oggi la menopausa perché cure di fatto esistono oppure cure non sono necessarie. L'unica cosa importante è la consapevolezza di un periodo difficile che va seguito, che va studiato su noi stessi e nel caso ci siano problemi possiamo vincere con l'aiuto del nostro medico.